Buonasera a tutti e buon inizio settimana e ben ritrovati con l'informazione del quotidiano L'Attacco. In prima pagina l'esito quasi scontato, dicono alcuni per le provinciali di Foggia. Nobiletti del centro-sinistra è il nuovo presidente della provincia. Polemiche dall'altra parte nel centro-destra e accuse dirette, in particolare contro il sindaco di Manfredonia Gianni Rotice. Sentiamo il servizio. Il sindaco di Vieste Giuseppe Nobiletti, il nuovo presidente della provincia di Foggia, sostenuto dalla coalizione tra PD, Movimento 5 Stelle, Civici di Emiliano e Articolo 1. Battuto il candidato del centro-destra, Nicola Gatta. Ancora una volta, questo il commento del governatore Michele Emiliano, la coalizione che governa la regione Puglia ha accolto una straordinaria vittoria, strappando al centro-destra la presidenza della provincia di Foggia, che era l'unica provincia governata dai nostri avversari. L'alleanza tra Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Liste Civiche collegate al presidente della regione è risultata ancora una volta determinante. Adesso è alla guida di tutte le province pugliesi. Una grande responsabilità e una grande opportunità, ha proseguito Emiliano, per tutta la capitanata. Onore al nostro candidato, Nicola Gatta, che ha sfiorato la riconferma alla presidenza della provincia di Foggia. È stato invece il commento del commissario regionale di Forza Italia, Mauro Dattis, il quale punta l'indice contro il sindaco di Manfredonia, Rotice, città determinante per l'esito negativo provinciale. Rotice, ha sottolineato Dattis, ha tradito il mandato e la fiducia dei vertici regionali e nazionali, consegnandosi politicamente al centro-sinistra e a Michele Emiliano. Oltre a Rotice, aggiungono, ribadiamo che chi non ha raccolto l'appello a seguire la linea di Forza Italia ne resta fuori, come il sindaco di Apricena Potenza e il consigliere regionale dell'Erba. Fratelli d'Italia, scrivono in un comunicato i vertici territoriali del partito, ha ben chiara quella che è la strada da percorrere e il risultato politico delle provinciali di domenica ci incoraggia ad andare avanti nel processo di costruzione di una coalizione di centro-destra competitiva e aperta a tutte quelle energie che vogliono costituirne parte attiva. Il consigliere regionale del gruppo Misto, l'ex sindaco di Lucera, Antonio Tutolo, in conferenza stampa attacca il vicepresidente piemontese. Il tema è quello del dissesto idrogeologico, la Puglia ha varato un elenco di opere pubbliche nel quale il dissesto ci entra poco. O niente? Sentiamo Tutolo ai nostri microfoni. Il consigliere regionale Antonio Tutolo del gruppo Misto esprime le proprie perplessità a proposito dell'annuncio da parte della Regione dei finanziamenti per circa 45 milioni di euro per 150 interventi diffusi in tutta la Puglia. Il governo con la legge 145 del 2018 ha deciso di stanziare risorse per mettere in sicurezza i territori. E dunque, secondo il consigliere regionale, ci si sarebbe aspettati da parte della Regione delle scelte oculate nell'ambito delle politiche di contrasto al dissesto idrogeologico, discorso che vale anche per le altre province. La Puglia quest'anno ha ricevuto dal governo 45 milioni di euro per finanziare prioritariamente interventi di messa in sicurezza del territorio. Tuttavia, con una delibera di giunta dell'ottobre scorso su proposta del vicepresidente Raffaele Piemontese, sono stati finanziati progetti di manutenzione di bocciodromi, il rifacimento di campetti sportivi, la costruzione di loculi per il cimitero, la manutenzione di bagni pubblici, la manutenzione di una camera mortuaria e molti altri interventi che nulla hanno a che vedere con il rischio del dissesto idrogeologico. A mio avviso, se il governo ti manda delle risorse per il dissesto idrogeologico e ti dice che con A, B, C, D, l'A ha la priorità a mio avviso, ma anche se non dovesse essere una priorità secondo la legge. Per me comunque resta una priorità il dissesto idrogeologico. È quello che causa morti. Cioè qualche settimana fa è morto chi è... ci sono state delle vittime a Dischia. Mi pare che era il tema del giorno. Ogni anno pianciamo delle persone che muoiono, delle tragedie, ma dobbiamo continuare ad assistere a sta roba qua e quindi ignorare il problema o dobbiamo investire prioritariamente su quello. Quindi io ritengo che qualsiasi risorsa si abbia a disposizione, la priorità è quella che ti crea più pericolo. La diga di Occhito ha ricevuto troppa acqua nell'ultima settimana e una parte ha cominciato a defluire disperdendosi in mare. Il resoconto ce lo fa Riccardo Zingaro. Dieci giorni di piogge e nevicate tra Monti Dauni e vicino Molise hanno ingrossato tutti i maggiori corsi d'acqua di Capitanata. Il Candelaro, il Cervaro, l'ofanto che sabato è esondato tra Andri e Canosa è il fortore che ha provocato il riempimento totale della diga di Occhito. Da domenica, infatti, l'invaso più importante della provincia di Foggia, destinato a uso irriguo e potabile, ha cominciato a far defluire l'acqua in eccesso verso i canali di scarico a mare, dopo aver raggiunto la capienza massima consentita attualmente di 220 milioni di metri cubi, di cui almeno una settantina ricevuti solo in questa settimana. Le paratoie erano già aperte e pronte da giorni, regolate dai tecnici del Consorzio per la Bonifica della Capitanata che sorvegliano i cosiddetti sfiori posizionati a più altezze sul livello del mare. Le limitazioni sono disposizioni di protezione civile dopo l'alluvione del 2005 che invase il territorio di Chieuti, la ferrovia e l'autostrada sulla costa adriatica. Il presidente dell'ente Giuseppe De Filippo ha stimato in almeno 40-50 miliardi di litri il surplus annuale che non ha più un utilizzo per il territorio. Davanti al Palazzo della Presidenza, su lungomare di Bari, questa mattina la protesta di un centinaio di lavoratori dell'ARIF, l'agenzia irrigua pugliese. La protesta nasce dall'applicazione del contratto collettivo nazionale per i 745 dipendenti, una scelta che penalizzerebbe i lavoratori sia dal punto di vista salariale che contributivo, secondo i sindacati. Oltre cento lavoratori dell'agenzia irrigua pugliese hanno protestato questa mattina davanti alla Presidenza della Regione Puglia a Bari. Si tratta di una mobilitazione organizzata dai sindacati FAICISL, FLAICGL e UILA, UIL di Puglia. La protesta nasce dall'approvazione in consiglio regionale di una legge che prevede l'applicazione del contratto collettivo nazionale delle funzioni locali per i 745 dipendenti, anziché il contratto collettivo nazionale idraulico forestale e idraulico agrario. Una scelta, quella della Regione Puglia, che penalizzerebbe i lavoratori sia dal punto di vista salariale che contributivo, secondo i sindacati. Cambiano il contratto, dal contratto privato si passa al contratto pubblico. Questa situazione è una situazione per noi inaccettabile perché c'è una penalizzazione nel cambio di contratto di circa 4.500 euro annuali, cioè una riduzione dello stipendio. Oltre a tutta una serie di questioni come rimborsi chilometri e quant'altro che nel contratto pubblico non è possibile riceverli. Pertanto la manifestazione di stamattina serve proprio a sensibilizzare la Regione Puglia a ritornare indietro sui suoi passi perché non si possono penalizzare 750 dipendenti dalla sera alla mattina. Ospichiamo che si possa in qualche modo risolvere buonanemente questa situazione perché diversamente saremo costretti ad andare avanti con azioni di lotta. Una delegazione tecnica è stata ricevuta dall'assessore all'agricoltura e dal direttore di Arif Francesco Ferraro. Le richieste formulate dal sindacato, così come poi preannunciato, sono state accolte pienamente. È stato quindi annunciato l'avvio dell'iter legislativo per l'abrogazione della norma che ha portato al cambio di contratto per i dipendenti. Chiudiamo con lo sport. Dopo il capolavoro di Pescara in campionato il Foggia piazza l'ultimo colpo in entrata a poche ore dalla conclusione del mercato di riparazione. Per la prima linea il tecnico Fabio Gallo potrà contare sulle prestazioni di Simone Edera, attaccante 26enne di proprietà del Torino che il club Granata gira in prestito e a titolo temporaneo ai rossoneri. Edera è la seconda punta che mancava nello scacchiere di Gallo, il giocatore che ha gamba e strappo e che per caratteristiche ha anche molti punti in comune condursi. Operazione perfezionata, si attende a momenti l'ufficializzazione. Parte invece Peschetola che torna alla casa madre dell'Inter prima di essere girato al Latina. Infine rinnova il laterale Alessandro Garattoni che si lega al Foggia fino al 30 giugno del 2025. È tutto con l'informazione anche per questa sera. Prossimo appuntamento domani alle ore 20. Vi auguro un buon proseguimento di serata.